A fine del giorno è stata tutta qua. Che è successo a Pietro? T'agite che è tutto a posto, padrino. E non ne ho vero! Ti ha già saputo. Tu mi li hai portare da viva? O ero a morire a presto a esse? Senza vostro padre Secondigliani si cambia come una bomba orologeria. Non sai come si dice, malamu? Quei vicini prima o poi diventano peggio nel micro re. C'è no. Ciro di Marzia. Non si sa più niente. Oh, fru. Ma che ci fai in questo posto in merda? Quando sono cofrato? Se l'immortale è Secondigliani, eh? L'immortale è morto. Quello che è successo in tuo quartiere ci ha imparato una cosa sola. E non si toccano. Tu a noi ci vira come quattro morti di famma, ma non abbiamo paura niente di nessuno. Vieni con noi. Non è stato il trinta in mano mia. E mi serve l'aiuto tua, Patrisi, non c'è una guerra. E si immagina una cosa che proprio la famiglia non mi può fidare. Ha cercato pure la mia figlia. Sono scesa all'inferno per capire. E ora che capisci? Come metti a fare la campanella a tutti? La prima cosa che hai da capire è chi sono quei amici e chi sono delle amici. Gendarino non conta chi uno canse. Sono stancato, ma ci fatti vecchi padri. Io non voglio stacchi sotto a loro. Devo decidere subito chi è padrone di voi. La città ci ha mazzicata e ci ha sputato. Che se ne chiude a casa nostra e non. E poi tutto quello che ci ha fatto in Samagorca... Sono io e te. ... ... ... ... ... ... ... ... ...